ciao oggi vediamo come fare la mezza maglia alta all'uncinetto allora si prende il filo proprio come per la maglia alta normale si entra nella maglia si prende il filo e lo si fa passare sotto quindi si riprende il filo e si passa sotto a questi tre fili tutti insieme faccio rivedere filo entriamo nella maglia sta entrando nella maglia subito dopo così prendo il filo e lo faccio passare dentro quindi riprendo il filo e passo sotto a tutti e tre prendo il filo entro nella maglia prendo il filo faccio passare sotto filo e sotto a tutti e tre grazie